salve a tutti ragazzi vostro lì in questo nuovo video vedremo come cambiare correttamente la pasta termica della cpu ci becchiamo tra poco con la spiegazione prendiamo il cacciavite e svitiamo eventuali bulloni e viti se il dissipatore o water block non viene via come in questo caso non allarmatevi è normalissimo semplicemente la pasta termica una volta stesa crea una sorta di effetto ventosa quindi tirate verso l'alto e ruotate a destra e a sinistra finché non viene via ecco qui come in questo caso adesso vediamo come rimuovere la pasta termica muniamoci di panno in microfibra e alcol isopropilico si trova facilmente in farmacia mi raccomando non usate altri prodotti sgrassanti o pulenti lasciano sempre qualche alone o impurità come l'alcol che si trova in casa l'alcol isopropilico invece evapora quasi istantaneamente e non lascia alcun tipo di impurità quindi prendiamo il panno in microfibra imbeviamolo con un po di alcol isopropilico ecco qui passiamolo sulla cpu in questo modo bastano pochi giri ed ecco qui pulita con lo stesso lato sul water block ed ecco qui prendiamo un lato asciutto lo passiamo di nuovo sulla cpu e sul water block adesso prendete la siringa di pasta termica un chicco di riso al centro prendete il water block o il dissipatore mettetelo sulla cpu pressione con la mano avvitate sempre a croce e stringete finché non sarà più possibile avvitare ed ecco qui il nostro canale è un'esercizio è un'esercizio il nostro canale è un'esercizio Grazie a tutti